Grande festa oggi per i cento anni di nonna bisnonna Romana Cardin. A festeggiare un traguardo così importante, nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Romana nasce a Negrisia, dove da sempre ha lavorato dalle suore come magliaia. Una delle sue abitudini, fare maglia a casa, recitare il rosario al capitello di via Grasseghella. Romana ha quattro figli, Maria Rosa, Fiorenza, Alberto e Lina, quest'ultima scomparsa. Quattro nipoti, due pronipoti, insomma un'intera famiglia che oggi si è riunita per festeggiare nonna Romana, che oggi ha brindato anche con un bel bicchiere di prosecco. Allora, vediamo il prosecco? Allora, l'albizzardo, dai un'altra mano. Cin cin! Evviva! Evviva! Evviva!